Andremo a installare una serie di telecamere, abbiamo parlato anche col commissariato di polizia, con i carabinieri. Ci sarà un'intensificazione dei sopralluoghi da parte delle forze dell'ordine, ma soprattutto una videosorveglianza completa del Biscione. Il sindaco di Conegliano Fabio Chiesa ha incontrato i vertici MOM per concordare misure comuni contro gli atti di vandalismo che per tre volte in meno di dieci giorni hanno preso di mira la sede di mobilità di marca al Biscione. Nel primo episodio era stata sfondata la porta d'ingresso della biglietteria. La settimana scorsa i vandali avevano danneggiato il portoncino d'entrata della sala autisti e messo a suo quadro il locale, spaccando mobilio e su pellettili. L'ultimo episodio, in ordine di tempo, nella notte tra giovedì e venerdì della settimana scorsa, quando i gnoti avevano rotto i vetri della porta sistemata appena pochi giorni prima. Azioni sempre più ravvicinate che provocano danni economici consistenti. È vero che si tratta di atti di puro vandalismo che non creano problemi di sicurezza, spiega il primo cittadino di Conegliano, ma l'attenzione di tutti resta comunque alta. Sono inaccettabili per una città come la nostra, dove il livello anche percepito di sicurezza è molto alto. Per cui non so se sia una sfida per noi. Le sfide per la città sono assolutamente altre. Non dobbiamo dare la possibilità a questi vandali di avere le prime pagine dei giornali. Un sistema di video-sorveglianza incrementato e maggiori controlli delle forze dell'ordine, ma il sindaco Chies chiede di più. Spero proprio poi che ci siano anche però le certezze della pena, cioè che quando questi individui vengano trovati ci sia anche la certezza di una pena per questi, in modo che non possano più compiere atti del genere.